Benvenuti in consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Gian Paolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. È stato presentato all'emiciclo il progetto per l'Aquila dell'artista statunitense Beverly Pepper. Il capoluogo d'Abruzzo, ha detto il presidente di Pangrazio, grazie alle sue peculiarità riesce ancora a richiamare artisti di fama mondiale. Il consigliere Monticelli annuncia l'avvio dei lavori di ristrutturazione del distretto sanitario di base di Bisenti e plaude l'arrivo di tre primari all'ospedale di Atri. Conferenza stampa di Forza Italia su viabilità, frane e depuratori. Secondo Febbo e Sospiri, i comuni lasciati ancora senza risposte. Gestione associata del Tribunale di Avezzano. Il consigliere Ranieri appoggia la proposta dei sindaci marzicani. Sanità. Duro scontro tra Pettinari e Paolucci. Il consigliere Cinque Stelle parla di fallimento, mentre per l'assessore regionale si tratta di critiche più che strumentali. Vediamo i servizi sugli altri avvenimenti. Servizi alle persone e alle comunità, tutela dell'ambiente e infrastrutture. Sono questi i settori di intervento sui quali il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha legiferato di più. A fare un quadro consuntivo generale degli ultimi tre anni di legislazione regionale è il rapporto presentato all'emiciclo dal presidente di Pangrazio. Alla conferenza hanno presenziato i vertici dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta e il presidente del Collegio per le Garanzie Statutarie di Plinio. Il rapporto analizza diversi aspetti della produzione normativa del Consiglio. Ad esempio scopriamo che su 350 leggi presentate nel triennio, 104 sono state approvate dall'Assemblea. In più si snocciolano i dati sulla tipologia di proponenti e sulla rispondenza delle leggi ai principi costituzionali. E proprio in questo campo l'Abruzzo sembra essere molto attento con solo 12 impugnative da parte della Corte Costituzionale. L'evento di presentazione del rapporto sulla legislazione ha costituito inoltre un momento di confronto sulle possibilità di evoluzione del processo legislativo in Abruzzo. Sentiamo in proposito le proposte del presidente di Pangrazio. Questo è un rapporto di analisi che fa capire tante cose, ragionamenti importanti che dobbiamo avviare, tra i quali la semplificazione non è solo quella del taglia leggi inutili, ma è anche quella di fare dei testi unici in modo tale che ci si possa orientare meglio. E non solo, fare una qualità normativa che vada oltre, che non guardi solo alle esigenze attuali, ma guardi anche al futuro. Ad esempio il ragionamento delle macro-regioni che prima veniva fatto, forse la normativa che guardi anche su questo versante. Promuovere la partecipazione popolare alla programmazione delle politiche regionali e locali. E' questo l'obiettivo che si pone il progetto di legge presentato dal consigliere regionale di sinistra italiana Leandro Bracco. La legge identifica nel garante dei processi partecipativi la figura che supervisiona le operazioni e garantisce la correttezza dei processi. Lo stesso consigliere Bracco entra nel merito della proposta legislativa. Il cui fine è quello di dare piena attuazione al concetto di cittadinanza attiva. E' una proposta normativa scritta, elaborata e redatta con la stretta collaborazione di Carlo Di Marco, che è un docente universitario a Teramo di istituzioni di diritto pubblico. In sostanza si vuole fare in modo che ci sia una stretta correlazione, un connubio fra la democrazia rappresentativa, cioè quella democraticamente eletta, e un'altra di natura prettamente assembleare o comunque partecipata. E' stato presentato all'emicico il dossier statistico immigrazione 2017. Il documento, curato dal centro studi e ricerche IDOS in convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta una visione d'insieme del fenomeno immigratorio in Italia basata su analisi statistiche. L'approfondimento ha riguardato anche le singole regioni italiane ed in Abruzzo il dato che emerge è che i cittadini stranieri residenti sono circa 86.000, pari al 6,3% sul totale, molto al di sotto della media nazionale che si attesta intorno all'8,3%. Mentre la provincia dell'Aquila è il territorio con più stranieri in Abruzzo, con percentuali vicini al dato nazionale, pari all'8,1%. Le ettenie maggiormente presenti nella nostra regione sono quella romena, albanese, marrocchina e macedone, seguite da quella cinese, ucraina e polacca. A spiegare l'importanza del dossier e del coinvolgimento delle regioni italiane su questo tema è il presidente Giuseppe Di Pangrazio. La regione è presente, non solo ospita, perché? Perché sempre di più lo Stato sta demandando alle regioni il compito del tema immigrazione, soprattutto in quest'ultima fase dove le regioni al loro interno, regioni d'Europa, hanno un gruppo di lavoro proprio chiamato fenomeno migratorio. Di questo gruppo di lavoro fa parte la regione Abruzzo, all'interno di questo comitato Carle, ne abbiamo discusso a Gran Canaria l'ultime due settimane, di nuovo adesso 10 e 11 saremo a Siviglia proprio per approvare un documento sul tema migrazioni in Europa. C'è quest'ultimo punto che è sempre più attuale, molto sensibile, che è quello dei minori non accompagnati che vengono nei nostri territori, dove anche su questo tema lo Stato ha intenzione, ma c'è tutto l'indirizzo, a demandare alle regioni il compito di assistenza, di tutela, di cura, di integrazione.